Crediamo che nel mondo agricolo il tema di sostenibilità sia importante per le aziende agricole perché abbiamo visto, l'avete visto da questo studio, da questa analisi anche che c'è una forte correlazione fra aziende che investono nella sostenibilità e sviluppo di queste aziende e poi perché crediamo anche che il tema della sostenibilità essendo essenziale per il nostro mondo, per la nostra economia, il ruolo delle aziende agricole che sono le prime, in prima linea sui temi di sostenibilità sia fondamentale per uno sviluppo sostenibile futuro. I primi guardiani del nostro ambiente sono proprio gli agricoltori e credo che il vedere sempre più aziende che stanno interessandosi a come migliorare le tematiche di sostenibilità nel loro modello aziendale sia un bene per queste aziende e per il paese e il mondo in generale. A presto erste indicazione Grazie a tutti.